Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Sarà un video veramente molto veloce solamente per dirvi le ultime sul SPAL Milan Questo video ve lo carico così come esce Appunto solamente per informarvi delle probabili formazioni ufficiali Che si schiereranno sia la SPAL che il Milan La SPAL dunque ragazzi si schiera con un 3-5-2 Se volete meglio un 3-5-1-1 In porta confermatissimo Meree Adesso ormai ha preso il posto di Gomis Che non sta facendo molto bene Quindi Meree è titolare in porta della SPAL Il trio difensivo è costituito da Felipe, Salamon e Simic Tre difensori, qualcuno anche di abbastanza di esperienza Dobbiamo riuscirli a mettere in difficoltà Il centro campo è composto da Lazzari Schiattarella, grande Schiattarella Everton, Luiz, Grassi e Mattiello Poi i due in attacco ragazzi sono Kurtic dietro la punta Antenucci Quindi ragazzi una SPAL ben organizzata Soprattutto perché la SPAL non può sbagliare questa partita contro il Milan Perché appunto semplici Leonardo Cioè l'allenatore della SPAL Se dovesse perdere la società di Stata Chiara Molto probabilmente arriverà l'esonero dell'allenatore Soprattutto ragazzi è una cosa ingiusta Perché appunto la SPAL stava facendo molto bene Parreggiava molte partite Ha pareggiato con l'Inter Ha vinto anche qualcuna Solamente perché ha perso due partite di seguito Adesso non penso che sia da esonerare un allenatore Che poi ragazzi sta facendo anche un campionato discreto la SPAL Ma passiamo alla formazione del Milan Perché come sempre il Milan si schiera con un 4-3-3 In porta confermatissimo Donnarumma Il terzino destro è Abate Quindi ancora non è ancora tornato Conti Del Calabria squalificato Ci va Abate I due centrali sono Bonucci e Romagnoli Speriamo che faranno un'ottima prestazione Mentre sulla sinistra ragazzi torna Rodriguez Dopo una partita che non ha potuto giocare perché è stato espulso Dopo un'altra partita c'è quella contro l'Ulinese per problemi fisici Ragazzi torna contro la SPAL Ha anche segnato il suo unico gol in campionato Speriamo che ne farà anche un altro Soprattutto perché ce l'ha il fantacalcio Davanti alla difesa il Regis dovrebbe farlo Occhio però ragazzi perché potrebbe anche rubarli un posto Montolivo Le due mezzate ragazzi ormai sono sempre loro Buonaventure che si speriamo che faranno una bella partita Il tridente è formato appunto da Cialanoglu Suse poi La punta non è calnice perché appunto nell'ultimo allenamento della rifinitura Ha avuto un problema muscolare Allora il ballottaggio tra Cutrone e Andresilva L'ha vinto Cutrone Quindi Cutrone questa partita dovrebbe partire titolare Andresilva sicuramente Entrerà Quindi ragazzi queste erano le formazioni Questa partita non la possiamo sbagliare assolutamente Dobbiamo vincerla Mi dispiace per l'allenatore della SPAL Che verrà esonerato nel caso di vittoria del Milan Ma la vittoria del Milan è più importante dell'esonero di questo qui Perché noi dobbiamo recuperare Dunque ragazzi questo video finisce qui Se vi siete persi l'ultimo video Se vi siete persi l'ultimo video Vi lascio qui sotto il link in descrizione Vi ricordo di lasciare un bel like Di iscrivervi al canale Di farmi sapere sempre la vostra qui sotto nei commenti E noi ci vediamo in un prossimo video Bella